Questo è Sotto Porta Show, Radio No Frontiere sempre on air, siamo ormai quasi vicini alla sfida dell'ezio scida di Crotone fra Crotone e Napoli e ne parliamo in compagnia di un carissimo amico. Io sono felicissimo di riavere qui dall'altro cappio del telefono, andando di citazione storica con un programma storico, ed è storico oltre che è stoico perché sopporta me, io sono felicissimo di avere con me appunto il buon Luca Cirillo di Arianapoli.it. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao Raffaele, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori, vedo che ti ricordi bene il nome, ci hai messo tre minuti. No, è la stanchezza caro Luca, scusami. No, 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 il nome me lo ricordo bene e chi si dimentica, d'altronde sei stato uno dei protagonisti di questo 2017 e ti ringrazio davvero per tutti i contributi che hai avuto modo di fare. Lo dico ora così non mi dimentico, non ci metto quei tre, quattro, cinque minuti per dire due cose. No, eri ancora ammaliato dalle note del maestro Gravitato. Bravo, bravo, grazie, mi hai salvato in corner. Beh, la qualità è sempre grande portatore di ciarla, come si suol dire. A proposito, caro Luca, Crotone Napoli, dicevamo, offre forse non tanti spunti, non ruba l'occhio, ma vale comunque sempre tre punti per il famigerato titolo d'inverno, ma è un titolo che forse serve per i titolisti più che altro. Che dici, o no? No, non sono d'accordo, ma mi piace citare Nanni Moretti, io con la maggioranza non mi trovo mai d'accordo, ci ricerco sempre la minoranza, poi quella minoranza che diventa maggioranza mi fa essere ancora una volta non d'accordo e quindi rientro ad essere d'accordo con gli altri. Quattute a parte, è una partita fondamentale perché per me quest'anno il campionato si decide agli scontri diretti e agli scontri diretti bisogna arrivarci al pieno dei punti possibili. Se una volta si diceva che il campionato si vince in provincia, io credo che quest'anno non basta. Aiuta a vincere l'eventuale scudetto a patto che nella classifica vorsa degli scontri diretti si è prima in classifica nella classifica. Quindi non è una partita banale, è una partita che ruba l'occhio molto, anche soprattutto perché ci sono dei calciatori molto interessanti nel Crotone, come i due napoletani Mandragola e Trotta. C'è un terzetto d'attacco interale con Budimir e Stojan che vanno a comporre questo trittico controllo e quindi bisogna stare molto ma molto attenti. Anche perché questa sera non sappiamo se poi giocherà al Biol o chi richiesto se addirittura Sarri, ma io non ci credo, posso dare la prima chance effettiva a Maximolic. E' una partita interessante, anche perché se ricordi, io credo di sì, Napoli-Sandoria, che è la seconda partita di Sarri nella sua gestione napoletana, c'era Zenga sulla panchina dei Doriati. Quella partita fu molto ostica dal punto di vista tattico, anche se era un altro Napoli, era un Napoli di laboratoriale che stava in un po' in progresso dal punto di vista della costruzione del gioco, però al di là della differenza, della cifra tecnica tra quella Sandoria, questo Protone, quel Napoli e questo Napoli che tutto sommato è simile nei numeri, soprattutto nei calciatori ma non nella filosofia di gioco, io credo che c'è da essere molto ma molto attenti. Credo che il Napoli, naturalmente parte favorito, però spero che non venga presa sotto gamba, perché bisogna chiudere la stagione del 2017 da capolista, perché il Napoli merita di essere capolista, però soprattutto per quello che ti dicevo prima, sono dei punti fondamentali, degli zoni fondamentali, soprattutto considerando che poi nelle prossime giornate la Juventus avrà sì due trasfeste, ma non assolutamente ostiche e il Napoli invece inizierà il girone di ritorno con delle partite tutto sommato agevoli, quindi non demordiamo, andiamo avanti a spada tratta, cerchiamo di chiudere anche questo filotto di risultati con il Pino, anche perché poi ci sarà la pausa invernale dopo la prima di ritorno contro il Verone e quindi poi riprenderemo, un po' il fiato e ci auguriamo che poi alla fine di gennaio possa rientrare almeno subito Milik e qualche giocatore da mettere dentro la casa e quindi naturalmente stiamo parlando di De Laurentiis, che deve essere bravo a mettersi sulla scopa della Befana e di regalare qualcosa di Nassarri e ai diffusi. Senti, ma cosa ti aspetti? Un poco di zucchero o tanto carbone dal mercato di gennaio? Ma come solitamente accade non mi aspetto di zucchero né carbone, perché sempre è il motivo che De Laurentiis, benché vada, compra la calza. Poi per quanto riguarda il contenuto è sempre un qualcosa di funzionale, non lo scuro e mai per il presente. Se ricordi l'unica sessione invernale nella quale poi sono arrivati i calciatori che oggi sono titolari è quella in cui arrivarono Goulam e Giorginio e quindi difficilmente il Napoli nella campagna acquisti invernale ha fatto acquisti mirati per migliorare l'undici titolare. Sarri tra l'altro è stato molto chiaro, ha detto che lui si aspetta due rinforzi importanti che sono Milik e Goulam. Io onestamente più di inglese, qualche parametro zero come Younes o Macac o Siciretti, non mi aspetto più di da Siciretti, stavo dicendo quasi alla brasiliana, all'argentina. Attenzione alle pronunce che sai che sul web fra pericisce e altre cose abbiamo sentito di tutti i colori. Io credo che al Napoli serva tutto sommato un'alternativa ad Insigne e Mertens in grado di finalizzare l'azione sugli esterni. E poi con il rientro di Milik e con l'arrivo di inglese il Napoli credo sia apposto anche sul versante offensivo. Ma il calciatore che più di tutti può servire a questo Napoli è un terzino sinistro perché oggettivamente pensare che Goulam possa rientrare subito dalla fine di febbraio, inizio marzo, così come l'avevamo lasciato, è un po' difficile da pensare. E pensare poi del pari che Mario Rui possa andare avanti su alti standard di rendimento senza avere un'alternativa alle spalle è un po' difficile. Quindi io mi auguro che principalmente il Napoli faccia due operazioni in attacco per colmare quello che effettivamente serve e poi soprattutto il terzino perché fondamentalmente sono questi i gol. Beh sì, lo credo proprio anch'io. Senti, a proposito di Amarcord e cose varie, tu prima ricordavi lo zenga della Sampdoria, ma la nostra bella e brava Maria che invece ci sta chattando ricorda anche lo zenga di Catania. Ecco, anche se qua andiamo veramente indietro di un pochettino. Il tecnico di allora era invece, se non ricordo male, Maria dice Reia. Io ti dico la verità, ho un piccolo vuoto di memoria, devo essere sincero. Però insomma, corsi ricorsi. Sì, era Reia, è stato bello e poi quando il Catania è andato a Montella c'era Mazzardi. Ecco, giusto, sì, sì, penso anch'io. Corsi ricorsi storici, ecco, vuol dire che insomma il buon zenga ci vuole bene. Anzi, a proposito, l'ex storico portiere dell'Inter e non dell'Inda, che è la formazione attuale invece, molto cinesizzata, ci vuole bene. Ecco, insomma, ha fatto dei complimenti effettivamente e poi ci ha scherzato anche un pochettino su. Ecco, secondo te il calcio sta diventando un pochettino troppo pesante in alcune dichiarazioni o troppo asti o troppo veleno? Ci vorrebbe forse un calcio più zenghiano, almeno di facciata, perché poi insomma è normale che ci possa essere magari… Mi trovo molto d'accordo con il mio amico Claudio Pea, storico giornalista, che scherza sempre con toni forzati, ma lo fa per un discorso di Sati, del quale sostiene sempre che il calcio è un gioco e tale deve restare. E poi ci siano degli interessi alle spalle del calcio, non deve essere materia che riguarda i tifosi e quindi non si devono mai inasprire i toni. Pienamente d'accordo. Ben vengano le dichiarazioni scherzose di Zinga, ben vengano le dichiarazioni anche abbastanza colorite di Sarri. Naturalmente poi non bisogna mai esagerare e restare nei limiti del bonton, dell'educazione, però naturalmente qualche battuta può scappare perché, lo ricordiamo, il calcio è comunque uno sport trasversale e lo sport più amato al mondo perché riesce ad unire dietro il pallone un po' tutte le categorie sociali, quindi è anche giusto che ci siano varie tipologie di linguaggio dove poi tutte le categorie di cui prima possono ritrovarsi. Quindi bene così, va bene il calcio della dialettica colorita, però poi ci deve essere di base sempre il rispetto, anche quando poi i toni diventano un po' più alti perché si arriva sotto sotto negli scorsi diretti, quando le partite magari sono più decisive, però senza mai dimenticare che il calcio non è un lavoro, ma è un gioco. Ecco perché non bisogna nemmeno esagerare con la ritorica della tuta, del fatto che quando si va in campo bisogna produrre il lavoro della settimana. Sì, siamo d'accordo, ci vuole professionismo, ma il calcio deve restare un aspetto ludico della nostra vita e quindi ben vengono le dichiarazioni di Zenga che poi contengono stristicamente anche una sorta di complimento indiretto per il tipo di gioco che sta facendo sempre. Sono pienamente d'accordo, sottoscrivo quello che dici, caro Luca, Crotone-Napole sì, è una sfida interessante, tu dicevi arrivare agli sconti diretti con il massimo dei punti, ma quanto pesa quella palla sprecata da Schick in Juve-Roma? Pesa tantissimo, ma c'è anche il risvolto della medaglia però, perché comunque dobbiamo fare due riflessioni. La prima è che quella palla sbagliata da Schick peserà moltissimo anche sulla classifica della Roma, perché dobbiamo essere realisti. Il Napoli naturalmente corre per lo studetto, quest'anno è inutile fare gli scaramantici, eccetera, ma naturalmente corre soprattutto per rientrare ancora una volta nel lotto delle squadre che giocheranno la Champions il prossimo anno. Quindi al di là che c'è ampio spazio, il Napoli naturalmente deve considerarsi a pieno titolo una delle favorite per il campionato, ma bisogna guardarsi anche alle spalle al di là della Juventus che sta facendo un campionato stratosferico come sempre. Il fatto che Napoli sia davanti gli dà la dimostrazione di quanto ancora più stratosferico sia il campionato del Napoli, però la Roma che ha perso terreno allo stadio naturalmente vorrà rifarsi e quindi sarà più velenosa negli scontri diretti che poi caratterizzeranno il giro di ritorno. Quindi il Napoli da un lato sì, probabilmente forse dovrebbe asperare in un pareggio tra le due squadre, ma dobbiamo essere anche onesti nel senso di la Juventus. Prima della palla di sbagliare la scicca, aveva creato molte altre occasioni e era stata sfortunata. Ma senza dubbio. Io credo che la classifica di oggi rispecchia perfettamente quella che è stata la stagione di entrambe le squadre, della Juventus e del Napoli. Il Napoli che merita davanti, però purtroppo il Napoli ha sbagliato, se vogliamo, due dei quattro scontri diretti. Quindi con l'Inter forse il Napoli doveva usare un pochino in più per raccogliere la posta piena, considerato quel calo dell'Inter. E poi con la Juventus secondo me bisognava essere un tantinello più calcolatori perché magari un pareggio oggi avrebbe offerto una classifica in cui forse due o tre punti di distacco esprimevano meglio la differenza tra le due squadre. Eh beh sì, sicuramente evitava anche questo fiato sul collo che tanto contraddistingue la vecchia signora e che chiaramente non fa mai stare tranquilli i propri avversari. La panoramica poi del campionato è abbastanza effettivamente chiara. Ci sono pure le coppe, il calciomercato, come abbiamo già detto caro Luca. Beh insomma, varianti ce ne saranno fino alla tappa di marzo ed aprile. Secondo te le coppe quanto possono determinare l'andamento dell'una e dell'altra squadra? E poi, quanto sei d'accordo con chi dice che il Napoli ha una rosa corta? È effettivamente così? Oppure è l'esatto contrario? Basta vedere giocatori come Zelinski, Diavara e Rog che giocano poco? O meglio, quanto meritano di giocare, certo. Sì, rispetto alla prima domanda, quella sull'incidenza importante che può giocare la presenza degli impegni di Coppa, vi dico che la Juventus quest'anno probabilmente ci punta più che l'anno scorso, perché Buffon probabilmente giocherà l'ultima stagione con la Juventus. Quindi io credo che il club bianconero proverà con tutte le sue forze ad arrivare fino in fondo anche in questa edizione della Champions, ma dall'altro lato bisogna pur dire che hanno una rosa talmente ampia in cui entrare ad una Juventus con Scesni o con Buffon, a proposito di Scicchi e di quella parata, anche se Scesni è stato molto onesto nel dire che Scicchi gli ha tirato addosso, si rende idea del fatto che la Juventus, comunque a prescindere dai tanti impegni, ha comunque la rosa utile per poter arrivare fino in fondo su entrambe le competizioni, anzi ti dico pure la Coppa Italia naturalmente perché la Juve non butta mai niente, e quindi pensare che in questo momento giocatori come Douglas Costa, lo stesso Bernardeschi ed altri facciano fatica ad essere titolari gli dà un po' la dimensione di quello che è la Juventus in quel nome, senza poi dimenticare Piazza, che è un giocatore che avrebbe fatto molto comodo al Napoli, che addirittura non gioca e non trova spazio, poi c'è Marchisio, ci sono tanti altri calciatori che fanno dormire sonni tranquilli alla Juventus. Forse la Champions peserà un pochino di più sulla Roma, ma effettivamente per quanto fatto vedere dalla Roma nelle ultime settimane un calo verticale c'è stato così come per l'Inter, quindi al di là di discorsi prospettici e di rispetto per le pretendenti al titolo, la lotta si è più o meno assottigliata verso l'alto, con due squadre principalmente che sono il Napoli e la Juventus. Napoli che probabilmente dovrà fare una scelta per quanto riguarda l'Europa League, anche perché per rispondere alla seconda domanda, io credo che il Napoli se fa un mercato degno di nota con almeno quei due tasselli di cui prima, io credo che a quel punto non ci possa essere più la famosa disputa sull'essere d'accordo o meno della rosa del Napoli lungo o corta, perché a quel punto il centrocampo del Napoli credo sia fornito molto bene per fare le competizioni. La difesa, considerato che chi richesse delle buone garanzie le dà maggio, sta giocando con abbastanza continuità rispetto agli anni precedenti e quindi Sarri lo tiene molto in considerazione, io credo che numericamente ci siamo, poi possiamo ragionare sulla qualità degli interpreti alle spalle dei giovanissimi e lì si può prendere un altro discorso molto importante. E anche molto lungo. Naturalmente il Napoli non ha in panchina calciatori di livello stratosferico come magari si può avere la Juventus o qualche altra squadra, quindi io credo che la rosa del Napoli sia numericamente eccellente. Dal punto di vista della qualità naturalmente non possiamo pretendere che il Napoli metta in panchina calciatori da 50-60 milioni di euro, così come fa la Juve, perché ti ricordo che contemporaneamente in panchina nelle ultime partite della Juventus c'erano Di Bala 150 milioni, Scesmi 40 milioni, Bernardeschi altri 40 milioni, quindi siamo già per oltre i 240 milioni di euro circa e quindi ti lascio un po' immaginare qual è la differenza tra Napoli e Juventus. A proposito poi di valutazioni, mi dicevi 150 di Bala, però io... Eh no, ma io rabbrividisco al suo pensiero. E poi non si accordo meno a questo nostro paese. No, vabbè, ma certo, ma qua andiamo proprio... Diciamo, nell'Europaia Neymar ormai siamo, 222 milioni, 180 a Mbappé, 85 per il difensore, credo, del Southampton, ora acquistato dall'United, pardon, scusa, confuso. Comunque pagato pochino, 85 milioni, ecco, insomma, ci sono delle cifre davvero... Io che veramente faccio fatica a credere, ma non so, magari... Magari su questo ci possiamo ritornare, che dici? Anche di un altro appuntamento, ecco, insomma. Quando vuoi, quando vuoi. Perché veramente meriterebbe, secondo me, davvero un capitolo a parte. Ti faccio l'ultima domanda, e poi, chiaramente, ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Nel Crotone ci sono il buon Trotta, Mandragora, nel Genoa c'era il buon Izzo, qualche tempo fa, e, insomma, e tanti suoi fratelli, ecco, oserei dire. Ma quanto potevano tornare utili questi giocatori, sempre con quel famoso discorso della scugnizzeria, tanto citata da De Laurentiis e poi mai messa in pratica, e anche poi di recente, lo stadio, i campi, ora si è fatto l'ipotesi melito, se non ricordo male. Beh, torniamo sempre su temi sicuramente delicati, perché essere campioni d'Italia, o comunque futuri campioni d'Italia, è importante, però i campioni del domani te li costruisci anche in casa, no? Vedete sì, Cutrone. Sicuramente io credo che l'immagine che più mi viene in mente di quanto stai dicendo che può essere riassuntiva di questo concetto è la Roma dei De Rossi e Totti, la Roma che all'epoca, pur essendo una corazzata economica, non era sicuramente una potenza di pari livello di Juventus, Inter, Milan, eccetera, che costruì le sue fortune in quell'epoca che era all'inizio degli anni 2000, a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, inizio anni 2000, in cui i campioni se li costruiva in casa, almeno due o tre campioni ce li aveva già in casa, e quindi senza dimenticare che poi questi due campioni costruiti in casa sono anche diventati i campioni del mondo nel 2006 con l'Italia, Berlino, Germania, l'Unione 2006, e quindi io credo che sia fondamentale da questo punto di vista pensare ad un Napoli del futuro con una scongizzeria importante, però se poi dei laurenti si insiste nel dire che magari quei soldi che ha perso, quei presunti soldi che ha perso dalla disputa con il Comune, sono i fondi tagliati alla scongizzeria, mi viene un po' da sorridere perché a me sembra tanto una scusa, perché un imprenditore che vuole investire su un determinato settore non si può avere il problema di individuare i determinati fondi che devono arrivare alla costruzione o meno di una scongizzeria, di una sorta di albergo destinato poi a una sorta di accademia come fa la Juventus, come per Milan, come fa il Catania stesso, dove i calciatori sono accuditi sin dai primi passi fino ad arrivare poi al diploma. Quindi fondamentalmente se un presidente vuole investire dei soldi nel settore giovanile non aspetta certamente che arrivino dei fondi, ma lo mette a bilancio una percentuale così come per il Milan che nel corso degli anni investiva addirittura 3-4 milioni di euro, mentre il Napoli ad oggi investe sui 4-500 mila euro, quindi questo ti dà un po' la dimensione dei ragionamenti che un po' spesso e poi in piedi non tornano per quanto riguarda il settore giovanile. Tornando a Mandragora sicuramente è un ottimo calciatore, un calciatore di talento che il Napoli seguiva, però poi ha fatto anche delle scelte personali perché poi è vero, bisogna un po' pongolare il Napoli da questo punto di vista, però poi ci sono le scelte personali, ci sono le scelte familiari, evidentemente Mandragora riteneva che per la sua crescita familiare, professionale, eccetera, umana, forse era più adatto all'ambiente gioventino, chissà, questo non lo possiamo sapere, non è sempre giusto dare le colpe al Napoli, ma naturalmente ci sono dei casi strani come può essere quello di Izzo, che è un calciatore di ottimo livello per la Serie A, ma francamente faccio fatica a pensare che magari l'ultimo Armando possa avere spazio in questo Napoli, sicuramente sarebbe stato un ottimo rincazzo, ma faccio fatica ad immaginarlo cotitolare come può essere un Koulibaly, come può essere un Albiolo e tanti altri calciatori, anche se Izzo è un calciatore che tecnicamente ti dà varie possibilità tattiche, quindi come spesso ne parlo con uno dei suoi agenti che è il mio amico Mario Foglia Mandillo, spesso facciamo delle valutazioni anche di natura tecnica, quindi Izzo secondo me era un talento che meritava di rimanere a Napoli, perché poi la storia di un calciatore non è sempre legata al talento che si sviluppa, ma anche dove si sviluppa, perché un calciatore che magari cresce nel Napoli, si sviluppa il suo talento, la sua crescita accanto a campioni importanti, magari diventa ancora più forte, mentre tu vai a svernare prima ad Avellino poi a Genova con tutto il rispetto con tutto il rispetto alla caratura dei calciatori del Genova non è sicuramente all'altezza di quelli del Napoli prima di me avrebbe imparato molto di più, avrebbe maturato un'esperienza diversa, quindi la storia dei calciatori è sempre particolare, perché io ricordo sempre che c'è un certo Gianfranco Zola che partito dalla Sardegna alla sua terra natia con Maradona sicuramente è diventato quel fenomeno, quel campione che abbiamo amato anche in altri club ma che probabilmente senza Maradona davanti la sua crescita non sarebbe stata la stessa, quindi un calciatore è la somma di tanti fattori tra cui anche la fortuna. Ebbè quella indirizza in un modo o nell'altro anzi con la fortuna senza alcun dubbio magari la indirizza senza alcun dubbio anche bene, beh nel caso di Zola hai scomodato l'altissimo in questo caso se non impari così allora sei destinato ad essere un giocatore normale e Zola per fortuna non lo è stato. Zola sarebbe stato un grande campione allo stesso ma credo che avendo come maestro davanti Diego un po' più facile avrebbe fatto più fatica ad imparare così così come una certa tecnica nel dare nello sfornare assist e giocate vincenti quindi questo l'ha detto anche Zola lo dico io ma questo discorso vale per perizzo immaginalo due o tre anni accanto all'albiola quali Bally quanto avrebbe imparato di più forse avrebbe avuto la possibilità di emergere ancora di più ma nella vita probabilmente ognuno ha un destino tracciato e quello non si può cambiare poi possiamo ragionare di filosofia di religione di libero architio però questo è un altro ragionamento è vero è vero hai pienamente ragione caro Luca è stata come sempre una bella ricca proficua chiacchierata in tua compagnia io ti faccio i miei più sentiti auguri di buona 2018 di buone feste e augurio che chiaramente estendo a tutta la redazione di Aria Napoli riferirò i tuoi saluti ai colleghi è sempre un piacere tanti auguri a te alla radio ai tuoi familiari alle persone che vuoi bene poi naturalmente anche se giornalisticamente spesso non piace ma dire un Forza Napoli ci sta sempre bene perché è indice di attaccamento alla propria città a prescindere poi dai toni professionali che bisogna sempre avere senza mai farsi prendere poi troppo da quella parte passionale che ci trascina e che dobbiamo tenere fuori quando facciamo le analisi hai pienamente ragione io al Forza Napoli però ci aggiungo il sempre comunque e dovunque un abbraccio ci sta bene ciao Luca grazie ciao a te ciao Raffaele ciao a te ciao a te ciao a te ciao a te